Le telecamere della Web TV hanno seguito un concerto di musica classica presso la residenza universitaria Cieli Montano, college che da sei anni organizza attività culturali aperte agli studenti di Roma. Lo spettacolo si è svolto sabato 14 marzo nella Lamagna del Collegio vicino Porta Pia. Cieli Montano è una residenza universitaria stile college americano. Si rivolge a studentesse italiane e straniere. Abbiamo un folto gruppo di residenti della Louise Guido Carli. Offriamo fondamentalmente, oltre a Vitto e Alloggio, anche tutta una serie di attività culturali che vanno a integrare la formazione universitaria di questi anni. È stata un'esperienza molto piacevole, anche per me che all'inizio era molto titubante. È un modo alternativo di trascorrere un pomeriggio tra amici, tra persone che hanno modo di apprezzare queste esperienze, che senza dubbio arricchiscono tutte. Questo tipo di esperienze ci danno la possibilità di ampliare i nostri orizzonti accademici, universitari, quindi proponendoci attività che vanno oltre quelle proprie del corso di studi. Cieli Montano si configura proprio come un polo culturale per tutti gli universitari delle università di Roma. È un'esperienza positiva da rifare. Grazie. 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 Grazie.